Vuole esplorare e svelare le relazioni umane la stagione teatrale 2022-2023 del Teatro Regina Margherita di Caltanissetta che apre il sipario da questo mese con un'offerta che va da Shakespeare a Goldoni, ma anche Bercoff e Grasso. Dai classici in chiave moderna al teatro contemporaneo, senza escludere nella proposta la comicità raffinata, inoltre storie di riscatto femminile e pensa anche ai più giovani. Il 28 novembre parte la stagione del Teatro Regina Margherita di Caltanissetta con un hamlet di Shakespeare interpretato da Mariangela D'Abraccio e Giorgio Pasotti. È il primo di una serie di nove spettacoli che sono stati scelti guardando quelle che sono le produzioni più interessanti, più particolari nella nostra nazione. Infatti avremo anche uno spettacolo nel mese di febbraio che in questi giorni ha debuttato al piccolo di Milano. La stagione si concluderà il 5 maggio con uno spettacolo che racconta la storia di alcune donne dell'entroterra siciliano e appunto questo spettacolo in questi giorni sta debuttando al Festival delle Colline Torinesi. Abbiamo pensato anche ad una mini rassegna per i bambini e le bambine costituita da quattro spettacoli che avranno due repliche, una pomeridiana per consentire alle famiglie di andare tutti insieme al teatro e poi un matinè riservato alle scuole. Questa scelta naturalmente è legata al riconoscimento del valore formativo assoluto del teatro. Tra le agevolazioni previste per chi effettuerà gli abbonamenti anche lo sconto del 50% per gli studenti e le famiglie.